Su Spettacolo Mania torna Anna Ferruzzo, ma come stai? Bene, molto bene, grazie. È sempre un onore per me partecipare a delle fiction così importanti e la storia lo è, lo è davvero. La storia, diretta da Francesca Archibugi e tratta dal capolavoro letterario di Elsa Morante. Allora, tu sei la signora di Segni e inizialmente, diciamo, incredula su tutto ciò che può accadere, che uno strano personaggio cerca di convincere tutta la popolazione del ghetto che qualcosa di orribile sta per accadere. E invece la signora di Segni all'inizio non ci crede affatto. O fa finta di non credere? Forse non vuole crederci, perché la signora di Segni, come penso gran parte del ghetto, ha intuito che qualcosa di drammatico sta accadendo in quell'inverno di guerra. E quando poi la signora di Segni si troverà di fronte a questa dura realtà sarà per lei scioccante, drammatica, non voglio raccontare nulla. Anche perché nel libro la signora di Segni è raccontata in una sola scena, quella appunto che vede i suoi portati via in un carro merci. Mentre invece, grazie a Francesca Archibugi e per volontà di Francesca, è stato costruito un piccolo personaggio che in qualche modo potesse essere ricordato dal pubblico e che potesse, proprio perché creava un feeling con il pubblico, arrivare ancora più forte nel momento importante del deportamento. Perché poi alla fine la signora di Segni racconta il rastrellamento del ghetto degli ebrei di Roma. Sarà ricordata sicuramente la signora di Segni, interpretata da te, anche per una scena che non sto qui a svelare, ma che insomma invito tutti quanti a vedere ovviamente la storia fino alla fine. Perché insomma è importante che sia così, invece quanto è importante raccontare storie come questa. Tra l'altro la storia è già stata una serie, molti anni fa, però è giusto che torni in qualche modo. Perché secondo te? È giusto che torni per tanti motivi. Prima di tutto perché forse da questa storia, dalla storia, gli uomini non imparano mai nulla. E secondo perché forse ci sono dei testi, e in questo caso la fiction, tra i vari meriti, è anche quello di riproporre forse la lettura del grande testo di Elsa Morante, e racconta la verità, cioè che quasi sempre le guerre, le guerre più terribili, lo scotto delle guerre più terribili, le pagano le persone semplici, quelle che sono piccole, che non contano nulla, ma che si ritrovano, piombano in questa realtà drammatica, incredule all'inizio e poi rassegnate perché non possono fare altro che subirle. E questo messaggio secondo me non dovrebbe mai essere dimenticato, soprattutto da noi che apparteniamo ad una generazione fortunata, che la guerra non l'ha vissuta, forse però l'ha sentita raccontare e dovrebbe essere raccontata più spesso. Quindi molto attuale purtroppo. Anna, ti ringrazio molto, ti auguro buon anno. Grazie a te, buon anno a tutti e mi raccomando non mancate, l'appuntamento è per l'8 gennaio lunedì in prima serata. La storia, regia di Francesca Archibugi. Un bacio. Con Anna Ferruzzo. Con Anna Ferruzzo anche.